prepariamo insieme pollo patate e peperoni al forno il piatto unico gustoso e saporito perfetto per tutta la famiglia iniziamo con la cottura dei peperoni io li ho cotti in frigitrice ad aria quindi peperoni nel cestello 20 minuti a 200 gradi fino a cottura riponete peperoni in una ciotola coprite con pellicola trasparente lasciate raffreddare a questo punto sigillate il pollo in padella senza olio o con un proprio filo d'olio con aglio e rosmarino aggiustate di sale e pepe e continuate a rosolare sfumate con vino bianco e lasciate evaporare del tutto la pasta alcolica nel frattempo tagliate le patate a tocchetti o a spicchi le mie erano patate novelle e quindi le ho lavate benissimo e le lasciate con la buccia condite le patate con sale pepe aglio e rosmarino e mescolate bene il tutto trasferite le patate in una teglia ricoperta di carta forno potete anche non utilizzare la carta forno ma la mia teglia era nuova e io non la volevo rovinare sistemate anche il pollo con le patate aggiungete un bicchiere d'acqua e ricoprite con carta forno bagnata e strizzata e stagnola a fermare il tutto e quindi in forno a 200 gradi per 20 25 minuti nel frattempo eliminate la pelle ai peperoni ricavatene delle falde e trasferitele in un piatto condite i peperoni con sale e pepe e tenete da parte trascorsi i primi venti 25 minuti di cottura controllate la cottura delle patate se sono morbide aggiungete i peperoni e quindi riportate in forno a 180 gradi ventilato fino a doratura ed ecco qui il nostro pollo patate e peperoni al forno pronto servite e buon appetito grazie per avermi seguito anche in questa videoricetta alla prossima ciao buono è